Per valutare la funzione renale basta poco. Se sei diabetico, se sei sovrappeso, se sei iperteso, se sei cardiopatico o semplicemente non sei più un ragazzino, quando devi fare esami del sangue o comunque periodicamente chiedi al tuo medico di fare l'esame della creatinina, l'esame urine e di misurare la pressione arteriosa. Così sarete contenti voi, il vostro medico e anche il vostro cuore.